Il patto di amicizia e collaborazione fra la regione toscana e la nazione dei nativi americani della Cota, uno dei tre gruppi storici dei Sioux d'America, è nato nel 1995 e oggi è stato rinsaldato a Firenze nel corso di un nuovo incontro fra una delegazione proveniente dal sud da Cota e l'assessore alla presidenza. Al centro dell'incontro un progetto di cooperazione scientifica per sviluppare un programma di educazione alimentare contro il diabete mellito di tipo 2 e altre iniziative di interscambio didattico e culturale. Il rapporto con la regione è stato ed è molto importante perché grazie alla regione toscana la nazione e la Cota ha avuto il riconoscimento dei diritti umani negati sin da quando il navigatore genovese Colombo ebbe la pretesa di aver scoperto un nuovo mondo. In realtà non era un nuovo mondo, ma era un mondo in cui già vivevano oltre 500 nazioni da oltre 20 mila anni. Il diabete mellito di tipo 2 colpisce il 70% dei la Cota che vivono nelle riserve, una delle incidenze più alte al mondo. Lo studio toscano, realizzato in collaborazione con l'associazione fiorentina Il Punto Macrobiotico Italiano, punta a contrastare la malattia attraverso una dieta corretta da seguire in alternativa all'uso dei farmaci. In Italia e in Europa crescono le patologie legate alle cattive abitudini alimentari, ha sottolineato l'assessore regionale alla presidenza, quindi del progetto per il La Cota si possa far tesoro anche in Toscana.